E ogni giorno purtroppo muoiono tante persone e qui ogni giorno c'è tanta gente che lo affronta quindi da una costa all'altra, quindi dall'Africa all'Europa, quindi dall'Africa cerca di arrivare in Europa e a tutti i ragazzi che non ce l'hanno fatto, i ragazzi e i ragazzi, gli uomini e le donne che non ce l'hanno fatto e a tutti quelli che ci hanno fatto e a loro va il nostro cuore E ogni giorno purtroppo muoiono tante persone che non ce l'hanno fatto, i ragazzi che non ce l'hanno fatto e a tutti i ragazzi che non ce l'hanno fatto, i ragazzi che non ce l'hanno fatto, i ragazzi che non ce lhanno fatto 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.